Diamo il buongiorno al nostro ospite Don Paolo Cignatta della Diocesi di Piacenza Bobbio. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Sono giorni importanti per Piacenza perché tutta la comunità celebra la beatificazione di Don Beotti. Si parte proprio domani alle ore 18 la chiesa di San Giovanni in Canale in via Beverona a Piacenza con questo convegno pastorale diocesano intitolato Camminava con loro. Sì, esattamente. È il convegno che apre il cammino dell'anno della chiesa piacentina. Camminava con loro è un inciso, uno slogan che abbiamo preso da un Vangelo famoso di Luca che è quello dei discepoli di Emmaus che ci accompagnerà durante tutto il cammino dell'anno. Abbiamo pensato di iniziare il nostro convegno che poi di fatto idealmente si conclude con la beatificazione di Don Beotti in cattedrale con l'intervento di questo biblista, Trimella, proprio per aiutarci ad entrare dentro questo brano. Ha degli spunti anche che riguardano il presente, immagino, questo convegno. Sì, è già da qualche anno che tutta la chiesa italiana e quindi anche la chiesa di Piacenza per mandato del Papa Francesco è quella dinamica che possiamo chiamare cammino sinodale. Vuol dire che la chiesa si è fermata forse un attimino e si sta chiedendo come sta camminando e con chi sta camminando. Abbiamo fatto degli ascolti e abbiamo cercato di ascoltare sia la realtà più vicina ma anche le realtà più lontane. Entriamo in quest'anno, fondamentalmente nel terzo anno di questo cammino sinodale nel quale abbiamo ascoltato il nostro tempo, abbiamo ascoltato la nostra gente, le nostre comunità, anche le persone più lontane. Quest'anno dovrebbe iniziare una fase anche di scelta, di iniziare ad applicare alcune scelte per il vissuto della nostra comunità. Quanto è importante per la comunità questo momento di beatificazione? La beatificazione, innanzitutto è un dono grande e dobbiamo anche riconoscere che circa un anno fa la chiesa di Piacenza era in festa perché era stato reso santo il Scalabrini e un anno dopo ci troviamo con un altro regalo, un altro dono che è la beatificazione di Don Beotti. È una figura molto bella, è un sacerdote, un parroco che ha vissuto fino in fondo la sua storia, la sua vocazione in quegli anni drammatici della guerra. È rimasto al suo posto, è rimasto a fianco della sua gente anche appunto in situazioni di estremo pericolo. Ha aperto la sua canonica, la sua casa a chiunque, ha ospitato e ha salvato anche degli ebrei, ha ospitato veramente chiunque avesse bisogno e l'epilogo di questo suo donarsi è stato appunto che è stato ucciso, è stato fucilato insieme ad altri compagni e questo suo sangue versato insomma ha reso testimonianza al Vangelo tanto che la Chiesa ha deciso di renderlo beato. Quindi è un dono molto grande, dà una figura bella per la sua diciamo anche normalità, cioè è stato un prete, un parroco vicino alla sua gente che si è speso fino in fondo e poi anche uno, il primo prete piacentino che è beato. Io ringrazio Don Paolo Cignatta per essere stato insieme a noi, ricordo domani appunto questo importante convegno. Buona giornata. A lei, buongiorno.